Volto innocente, passo tranquillo, Anna Gorsini attraversa la frequentata sala di Villa Florio a Grotta Ferrata. Niente sirena della polizia in arrivo. È semplicemente una sfilata di modelli leggermente intimi e un incontro di bianco e nero. Una sinfonia magistralmente condotta di Gheppiere, Bustini, Reggi Calza e Pagliaccetti, si chiamano così, per l'eleganza quasi invisibile del sesso femminile. Vestiamola una donna. Un, due, tre, fatto! Centomila con lo sconto. Si accomodi alla cassa, comendatore! Gli espositori della moda italiana non mancano certo di fantasia. Qualcuno potrà pensare ad una misteriosa setta di incappucciati. Si tratta di mettere in risalto i guanti, complemento di ogni abbigliamento perfetto. Una sfilata che, lo ha dichiarato persino Cipariello, ha fatto capire molto della moda invernale.